Insegnare l'importanza della sicurezza stradale delle conseguenze di una condotta irresponsabile o annebbiata dall'utilizzo di alcol e droghe. A Chieti si è svolta nella splendida cornice della villa comunale l'ultima tappa del progetto Cammino Sicuro, dove Polizia Municipale e piccoli studenti delle scuole primarie hanno condiviso simulazioni di guida da più punti di vista. È un progetto riuscito e un obiettivo che noi vogliamo raggiungere, soprattutto quello di creare consapevolezza nei più piccoli, perché siano poi utenti della strada attenti e consapevoli. E poi c'è il tema importantissimo che è quello della ricerca sempre più forte della consapevolezza del danno gravissimo che provocano alcol e stupefacenti. Abbiamo fatto poi lezioni nelle scuole, insegnando, e quello è importante, il comportamento del pedone, il comportamento del ciclista, le regole basi dell'educazione stradale. E poi abbiamo inserito anche quest'anno una piccola chicca, abbiamo utilizzato degli istruttori cinofili per far vedere come deve essere l'approccio con il cane. E noi attraverso i bambini vorremmo, siccome sappiamo che i bambini sono i più grandi insegnanti dei propri genitori, vorremmo che insegnassero ai genitori come condurre un cane. Quasi un paradosso, se non fosse, che sono proprio i bambini a vedere con semplice lucidità tutti i rischi che si corrono alla guida. Quando sento il suono del fischietto capisco subito di essere protetto. Ringrazio i vigili con tutto il cuore, perché mettono 100 sicurezza e zero dolore. Ringrazio la Polizia Municipale con felicità, perché evitano gli incidenti nelle città. Seguiteli, sono importanti, salvano la vita.